Iniziamo con una prima nazionale, ma il festival ormai è diventato un appuntamento fondamentale nell'estate forsempronese, si caratterizza con un numero non elevato di spettacoli, ma l'elevata qualità dei protagonisti è garantita. E quindi questa è un po' la politica che abbiamo sposato come Fondazione Monte di Pietà, che lo ricordo è la fondazione cittadina che vive ed opera da Forsemprone con l'antico Monte di Pietà dal 1492, ed è impegnata in questo sostegno. Quest'anno, tra l'altro, il festival compie 18 anni, quindi con la maggior età non rinuncia ai propri punti fissi, quindi non quantità ma qualità degli spettacoli, in una cornice splendida come quella dell'esedra di Piazza Mazzini davanti al Duomo e in caso di pioggia nella splendida chiesa barocca di San Filippo di Forsemprone. Cosa prevede il cartellone di quest'anno? Allora, come ogni anno, presentiamo tre meravigliosi spettacoli, dove l'obiettivo è quello di fondere, come da tradizione, musica e parole. Inauguriamo il 10 luglio con Violante Placido in Perelisa, la breve composizione di Beethoven conosciutissima nel panorama della musica occidentale classica, la voce recitante, quindi Violante Placido, accompagnata da Davide Alonia al dal grande Davide Alonia al violino e da Giuseppe Greco al pianoforte. È una prima nazionale. Il secondo spettacolo sarà il 21 luglio con Orfeo, la voce recitante, quella di Andrea Bosca, accompagnato alla chitarra dal grande Giulio Tampalini e al flauto da Stefano Maffizzoni. Chiudiamo in bellezza con Luigi Locascio, che presenta il suo primo libro di narrativa, Ogni ricordo un fiore, accompagnato da Nico Gori, che ha composto delle musiche originali per questo reading musicale, e da Massimo Morriconi, che tra l'altro basta dire che è il bassista di Mina. Quindi ci aspettiamo che possiate intervenire numerosi al Festival di Fossombrone, che tra l'altro si svolgerà nella suggestiva cornice dell'esedra di Piazza Mazzini. Ricordiamo che gli spettacoli sono tutti e tre gratuiti. È tutto patrocinato dal Comune di Fossombrone.